Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere come poter fare delle query sugli utenti in WordPress. Nei video precedenti, che puoi trovare suggeriti qua sopra e all'interno del mio canale, abbiamo fatto un po' tutta quella che è la panoramica degli utenti, come possiamo eseguire infatti un inserimento, lato codice, un aggiornamento, una cancellazione e aggiungere degli attributi aggiuntivi e anche come ripescare la lista degli utenti. Se però abbiamo la necessità di avere delle richieste, delle funzionalità più particolari, ecco che abbiamo una classe del core del business di WordPress che ci consente di lavorare in maniera più approfondita sugli utenti e sulle loro query. Non perdiamo però adesso altro tempo e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Grazie a questa classe WP User Query abbiamo la possibilità appunto di lavorare in maniera più approfondita appunto sugli utenti come abbiamo già anticipato. Vediamo com'è l'utilizzo della WP User Query. Fondamentalmente abbiamo un array dove passeremo tutti gli argomenti, quindi tutte le parti della query che vogliamo ottenere, lanceremo la query vera e propria e poi avremo un loop perché avremo un array come risultato dove possiamo ciclare per poter appunto visualizzare gli utenti che abbiamo scelto di filtrare grazie a queste query. Se la query tornasse e non tornasse ai risultati abbiamo appunto la possibilità di stampare un messaggio di errore, un messaggio di nessun risultato trovato. Andiamo un pochettino a vedere alcuni esempi e alcuni appunto parametri che possiamo passare per questa query. Primo tra tutti abbiamo l'user role, cioè la possibilità di scegliere a seconda di scegliere utenti, farci ritornare liste di utenti in base ai ruoli utente. Infatti abbiamo sia il parametro possiamo usare role dove passiamo il singolo ruolo o role in o il role not in, qua possiamo passare due degli array dove possiamo passare gli array dei ruoli utente dove vogliamo che venga effettuata la ricerca oppure dei ruoli utente che vogliamo escludere. Qua abbiamo per esempio una query dove ricerchiamo solo gli utenti amministratori e abbiamo una vp user query infatti dove abbiamo array role administrator. Abbiamo qui sotto un'altra query dove l'esempio ci fornisce solo gli utenti subscriber, quindi abbiamo role subscriber e qua abbiamo un'altra query dove visualizzeremo tutti gli utenti eccetto, quindi tranne i subscriber, infatti abbiamo role not in con appunto l'array subscriber. Abbiamo anche un'altra tipologia di parametro che è l'include e l'exclude, cioè abbiamo una lista, possiamo passare come parametro per questo include e exclude, liste di utenti che vogliamo includere nella query o che vogliamo invece escludere nella query, quindi in questo caso includiamo specificatamente alcuni utenti, quindi gli utenti con l'ID 1, 2 e 3 e nel caso successivo invece andiamo ad eliminare, quindi non eliminare, ad escludere da questa query gli utenti con id 4, 5 e 6 per esempio. Poi possiamo utilizzare il blog parameter, cioè il parametro del blog id, cioè cerchiamo se gli utenti che hanno avuto, hanno un'associazione con un particolare post, quindi con un particolare articolo, quindi magari sono gli autori oppure appunto ci sono altre associazioni di questo tipo. Poi abbiamo uno tra i più interessanti parametri che è quello di ricerca, infatti possiamo passare appunto il parametro search con una stringa che vogliamo cercare, qua la ricerca viene fatta di default quando viene ritrovata parte di questa stringa, quindi cerchiamo sia che contenga questa stringa, sia che finisca con questa stringa, sia che inizia con questa stringa e soprattutto la ricerca viene effettuata di default su tutte le colonne relative all'utente, quindi all'ID, all'user login, all'user nice name, all'user email, all'user url. Se vogliamo anche qui possiamo ulteriormente personalizzare la ricerca andando a ricercare solo in determinate colonne, come specificando l'altro parametro search columns e passando tramite array su quale colonne vogliamo effettuare la ricerca. Quindi come abbiamo visto prima nell'esempio precedente cerchiamo la keyword rami all'interno appunto degli utenti, nell'esempio successivo cerchiamo la keyword rami ma soltanto nel user login e nell'user email. Poi abbiamo altri parametri che sono relativi al pagination, naturalmente diamo il number che è il numero di quanti risultati, quanti utenti vogliamo visualizzare, quindi fondamentalmente è il nostro, è il limit delle query. Poi abbiamo l'offset, quindi da quando vogliamo far partire, da che utente vogliamo far partire la ricerca, quindi stiamo paginando qui gli utenti, infatti in questo esempio mostriamo 5 utenti per volta partendo dall'utente 25, quindi saremo, non lo so, alla pagina, dico io 5. E possiamo anche utilizzare questi array, questi parametri per crearci una pagination qualora gli utenti fossero tanti. Abbiamo poi anche la possibilità naturalmente di ordinare risultati, quindi abbiamo un order by e possiamo passare il parametro per cui vogliamo che venga ordinata questa query, di default viene ordinato per la colonna login, ma possiamo ordinare per id, per display name, per username, per include, quindi possiamo ordinare per un numero particolare di utenti, per il login, username, url, eccetera. In più, naturalmente, possiamo stabilire che tipologia di ordinamento vogliamo, quindi ASC, quindi ascendente, o DESC, discendente, esattamente proprio come le query in MySQL. Qua abbiamo appunto un esempio di utenti ordinati per l'ordine degli articoli che hanno inserito in maniera discendente, quindi con order by DESC, e qua invece abbiamo una lista, quindi una query, di utenti registrati ordinati per in ordine ascendente. Poi possiamo anche passare una data, una data appunto per quanto riguarda i parametri, e quindi qua abbiamo appunto un esempio pratico dove possiamo andare a vedere quelli che sono gli utenti che si sono registrati nelle ultime 12 ore. E quindi possiamo appunto utilizzare anche il parametro data, data dei query, per raffinare ulteriormente la nostra ricerca. Poi possiamo anche ricercare attraverso dei custom field, quindi qua entriamo in un'ulteriore parentesi, diciamo, di WordPress, che è la WP in meta query class, dove appunto possiamo andare a ricercare per meta key, quindi se abbiamo aggiunto degli attributi, come ho fatto vedere nei video precedenti, per un determinato meta value, e quindi a seconda di un valore che stiamo cercando noi nel dettaglio, e possiamo anche comparare questo valore, quindi possiamo decidere se questo valore è, per esempio, in, not in, between, not between, exist, not exist, maggiore, minore, like, eccetera. Per capirci un pochettino meglio, quello che possiamo fare, lo vediamo negli esempi qui sotto, andiamo qui per esempio a andare a cercare solo gli utenti provenienti da Israele, abbiamo questo meta key country e meta value Israel, quindi andiamo a ricercare solo gli utenti provenienti dall'Israele. Un altro esempio è dato da questi utenti che sono sopra, sono sotto ai 30 anni, quindi abbiamo meta key age, per esempio, meta value 30, e abbiamo il meta compare che è minore, quindi gli utenti al di sotto dei 30 anni. Possiamo anche combinare più ricerche, quindi, per esempio, vogliamo cercare utenti provenienti da Israele e con, appunto, un'età, per esempio, compresa tra 20 e 30 anni, abbiamo la relation OR, quindi, purché una delle due condizioni sia verificata, value, cioè il meta key Israele deve essere uguale, quindi dobbiamo cercare solo gli utenti provenienti da Israele con età compresa tra between 20 e 30 anni. Abbiamo anche un tipo di parametro che è il Q, serve per cercare alcune tipologie di utente, quindi possiamo dire, per esempio, chi autori, quindi cerchiamo solo gli autori, per esempio. è un altro modo di ricercare sempre gli utenti. Poi abbiamo un total count, che ci ritorna il numero totale degli utenti. Abbiamo anche altri parametri, tipo as published, che ci torna, per esempio, se ci sono degli utenti che hanno pubblicato articoli o no, questi sono sempre per utilizzi sempre più specifici, e qui abbiamo un'ulteriore ottimizzazione, quindi un'ulteriore parte interessante per quanto riguarda sempre la query. Possiamo decidere, di default vengono ritornati tutti, ma possiamo decidere per ottimizzare e leggere la query i return field, quindi possiamo decidere quali campi farci ritornare. Di default questi sono i parametri che vengono ritornati, i campi che vengono ritornati come risultato di una query all'interno dell'array. Noi possiamo, appunto, in questo esempio, cerchiamo gli utenti editor e ci facciamo ritornare tutti i campi. Diversamente, invece, possiamo specificare in un array per comodità soltanto i campi che vogliamo che vengano ritornati, quindi, per esempio, user login, user nice name, email, url, e nella query cerchiamo, appunto, gli utenti con il ruolo editor, con i campi per questo array qua sopra definito. Quindi possiamo definire quali campi vogliamo farci ritornare, per esempio. Abbiamo, appunto, altre, poi, tipologie di, sempre di ritorno, che possiamo utilizzare per ottimizzare ulteriormente le nostre query. Qua abbiamo visto un pochettino tutta quella che è la classe WP Query. Qua abbiamo qualche annotazione da parte, qualche esempio da parte dei contributor. Comunque, direi che gli esempi che abbiamo visto sono molto chiari e rendono molto, molto l'idea di che cosa possiamo fare grazie a questa classe del core di WordPress. Direi che per quanto riguarda WP User Query è tutto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video. Se comunque hai dei dubbi, hai delle domande, scrivimeli qua sotto nei commenti in modo tale che posso darti una mano per quanto più possibile. E se ancora, invece, hai dato un'occhiata, hai già spulciato all'interno del mio canale e stai cercando qualche approfondimento che non hai trovato, anche questo suggeriscimelo qua sotto perché magari posso trovare qualche altro nuovo spunto, qualche altra nuova idea per qualche video di informazione proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso, comunque, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao! Grazie a tutti.